ciao e benvenuto all'interno di questo nuovo video oggi voglio parlarti veramente di un tema che mi sta a cuore ovvero la capacità di crearsi relazioni è un luogo iper comune ormai non nel mondo della musica che si dice che per avere successo ci vogliono i contatti servono le raccomandazioni servono le relazioni e puntualmente mi viene da pensare è perché tu non te le fai cioè se mi dici che ti servono i contatti ti servono le relazioni tu pensi che gli altri sono nati con le relazioni a tre anni no andavano in giro io c'ho già le relazioni così quando imparo a cantare posso avere successo no cioè nel senso che se in qualche modo sono arrivate se sono arrivate è perché hanno fatto qualcosa più o meno in maniera conscia per potersi creare questo tipo di relazioni non è che nasci con le relazioni infatti secondo me i social hanno portato tantissime migliorie hanno dato la possibilità alle persone di potersi mettere in mostra e di non poter dipendere per forza di cose in una fase iniziale dalle etichette ma farsi conoscere prima e poi chiaramente collaborare con delle etichette ma d'altro canto hanno inibito una delle cose che ha sempre fatto la differenza nel mondo ovvero la capacità di crearsi delle relazioni fisiche i contatti ragazzi io ve lo dico perché ho diverse attività su su diversi settori e quello che per me ha fatto la differenza non è stato appunto il broadcast su whatsapp e ciao vuoi diventare mio fan vuoi collaborare con me né tantomeno è stata la sponsorizzata su facebook piuttosto che queste cose tutte robe utili a contorno però di un canale principale ovvero andare fuori a cercarmi i benedetti contatti vi cito il mio esempio con la mia esperienza personale perché penso che poi possa essere utile a traslare in quello che è il mondo della musica io inizialmente proprio a quando avevo 18 anni facevo il venditore nel settore edile avevo 18 anni e secondo i quanti imprenditori e avevo dovevo gestire le province di lodi pavia piacenza cremona bergamo brescia e milano secondo voi in tutte queste province quanti imprenditori del mondo edile conoscevo secondo voi sono nato nell'edilizia coi mattoni cioè la mia culla era fatta di mattoni la risposta è no ovviamente sto scherzando e nel senso che avevo la culla di mattoni no adesso scherzando ancora torniamo seri dicevo come ho fatto a creare questa cosa guarda un po anziché a star lì a comprarmi le streams dell'u guarda hanno visto i miei post sull'edilizia cento persone mille persone duemila persone macchinina andavo in giro nei cantieri a fare il lavoro sporco dire ciao sono emmanuel come posso esserti d'aiuto io faccio questo mi aiuti a conoscere il territorio e la gente mi sfanculava mi diceva di no ma io mappavo il territorio in modo tale che iniziavo a entrare nel giro ma tu che mi dici che vuoi vivere di musica lo conosci veramente il tuo giro o conosci quello bravo su youtube sai veramente nel mercato locale chi fa la differenza o conosci sempre quello su youtube scemo quello bravo o quello che critichi sai veramente come girano i soldi all'interno del tuo ecosistema all'interno del tuo genere musicale o sappiamo soltanto i gossip dei top che quello se la fa con quello quello canta con quello quello si è lasciato con quella bandato in quell'altro eccetera eccetera che fanno gossip ma non portano soldi a te ce l'hai la mappatura del tuo settore lo conosci esattamente come si fa sai veramente chi conta conosci di persona concretamente li hai mai visti li hai mai toccati con mano sei mai stato in un tavolo con loro e tu giustamente mi puoi dire ma io non so come si fa a creare relazioni di questo tipo non non ne ho la più palli di idea è molto semplice la prima cosa è devi uscire da quella cazzo distanza devi smetterla un pochino di comporre il brani ok bellissimi fantastici però smettila nel senso che lo metti in pausa e ti inizi a muovere e ti fai la domanda giusta ovvero dove sta la gente del mio genere musicale dove stanno i manager dove stanno delle persone che possono aiutare ad espandere i miei brani i miei contenuti la mia visione musicale il mio mondo stanno all'interno di questo locale stanno interno di questo quale cosa mangiano dove dove si frequentano dove si muovono tu dici a questo qua è stalking no questo è il lavoro fa parte del tuo lavoro che prima impari a farlo prima potrei ottenere potrai ottenere successo ma io stesso quando sono entrato nel mondo della musica ho fatto la stessa cosa ho capito che c'era un gap da andare a colmare ovvero che l'artista purtroppo oggi sta sbagliando tutto è la ricerca delle views e invece deve fare marketing per poter controllare il mondo ma non avevo mica la presunzione di entrare qua e dettare legge uno perché non so cantare due non so neanche comporre un brano ma un'altra skill o un'altra competenza quella di portare i tuoi brani attraverso le competenze di marketing a diciamo un livello successivo che ti permette di poter monetizzare vivere di musica ma non è che sono entrato così a spromatutto un anno e mezzo di analisi e ricerca insieme a simone per poter capire come poter aggredire questo mercato per portargli valore aggiunto ed essere un valore reale tangibile questa cosa qua è una mappatura di quello che il mercato che tu affronti cosa che tu non so se hai mai fatto fino in fondo quindi seguimi perché adesso pian piano voglio andarti a spulciare non tutto ovviamente ma qualche qualche chicca che potrebbe veramente far la differenza non tutto non perché sono brutto e cattivo ma semplicemente perché sono dovremmo stare qua quattro ore e diventa un workshop io ti mi conto che le altre mie attività insegno questo cioè come crearsi relazioni nel mercato per rendere i tuoi business immortali quindi di conseguenza poi ovviamente all'interno della community metteremo tutta una serie di tips quindi ti insomma invito anche a seguirci da questo punto di vista tornando a noi il punto è questo ok come posso crearmi realmente delle relazioni quali sono le tecniche per poter agganciare le persone innanzitutto non devi essere presuntuoso non devi farlo non devi mai metterti in sfida ok con chi ce l'ha più lungo chi suona meglio chi canta bene e vai anche dei tuoi competitors quindi prima cosa che io farei fossi in te è il tuo genere musicale ok dove viene ovviamente dove viene cioè dove viene cantato dove viene suonato in quali locali quando vanno le band in quel locale a suonare ci vai anche tu ma mi stanno sul cavolo sono antipatici sono miei competitors sì ma questo al proprietario del locale non gliene frega niente che tu competitors quindi perché non inizi andare lì a vedere come suonano cosa fanno cercare di capire quali sono i pro e quali sono i contro e poi magari puoi utilizzarlo per proporti tu a quel locale o anziché farvi la guerra iniziate a creare delle collaborazioni e fate uno scambio dei locali quindi tu magari ai dei locali quella benda degli altri locali insieme fate una joint venture e vi distribuite le date perché inizia a parlare e il segreto è sempre quello per poterti approcciare con un competitor o comunque con una persona in generale c'è un'arma che si chiama complimento una delle cose che mi ha cambiato la vita e capire che il complimento abbassa le armi abbassa le difese delle persone cioè se tu vedi una persona di dice ciao brutto stronzo come stai quello ti tira un ceffone se tu gli dici cavolo ma certo che hai suonato veramente da dio tanta roba complimenti quello si scioglie e ti dà ascolto perché perché la gente tutti i giorni piglia insulti dalla mattina alla sera viene iper criticata arriva il primo che gli fa un apprezzamento è nell'essere umano proprio nella nostra nel nostro interno la voglia di di sentirselo dire ancora è dopamina no per per il nostro corpo perché dice a cavolo ne voglio ancora ne voglio ancora non voglio ancora quindi il complimento abbassa le armi toglie le difese e permette di instaurare un rapporto chiaramente con la persona e questo è un primo secondo me è impatto che c'è una prima cosa che fa davvero la differenza nel installare delle relazioni il complimento che abbassa le armi difensive perché se tu vai da una persona inizia a dirgli ciao collaboriamo insieme quello ti dice ma che cazzo vuoi chi cazzo sei ma baffanculo questo quello che ti dice se invece tu gli dici ciao complimenti perché suoni veramente bene ah grazie grazie fantastico sono molto contento di questa cosa mi fa mi fa piacere ma veramente apprezzato perché sai anch'io suono ma devo dire devo essere onesto questa cosa cioè chapeau complimenti lei l'hai fatta correttamente anche l'accordo così guarda mi è piaciuto tantissimo a cavolo figata guarda sono veramente contento anche perché dai alla fine si vive di queste cose no si vive d'emozioni si vedi di far piacere agli altri poi detto da un artista mi fa veramente piacere perché vuol dire che allora la qualità c'è tu che cosa suoni come ti muovi ma guarda io faccio questo è visto se già crescendo è una roba tratto da storie vere non mi puoi dire che non è così perché sono convinto che in maniera inconscia anche tu a volte ti è capitato di fare degli apprezzamenti sinceri con questo non ci sto dicendo che mentire spudorata invece uno se fa cagare non gli puoi fare un complimento giusto però di base trova il sistema per trovare un apprezzamento per creare rapporto questo sia con i tuoi competitors che non con i tuoi competitors come potersi approcciare invece con una persona che è superiore a te dal punto di vista della percezione perché poi un altro problema è che spesso e io questo lo capisco è una cosa assolutamente naturale hai paura a rapportarti ed approcciarti con persone che a livello di autorità sono superiori a te perché giustamente tu dici oddio come faccio non mi cagherebbe mai invece ti posso dire che non è assolutamente così perché io mi sono trovato in condizioni in cui per le persone ero tra virgolette la figura è autorevole o a livello sociale più in alto rispetto a altri mi è capitato in in diversi contesti in diversi ambienti e percepivo che da parte delle persone c'era un po di soggezione nel chiedermi le cose o nel parlarmi o nel volermi proporre delle cose ma tu devi sapere che le persone che si trovano in quel frangente sono lì che non vedono l'ora non vedono l'ora di conoscere artisti emergenti gente umile con le palle con la voglia di fare perché si immedesimano perché intravedono perché vedono la possibilità quello che odiano gli sta sul cazzo è l'artista che si deve sboroneggiare deve per forza far vedere quanto c'è da lungo perché che cosa succede quando tu trovi una persona che a livello sociale più potente di te non hai l'umiltà di dire no guarda che io sono ho ancora tanto da fare rispetto alla strada che tu hai percorso no vanno lì e cercano di mettersi alla pari per avere un confronto alla pari che è da un lato naturale perché a nessuno piace sentirsi inferiori da questo punto di vista dall'altro è stupido perché se sei palesemente inferiore non è l'altro non capisce che ti stai cercando di pomparti più di quello che sei a volte quindi essere te stesso ti aiuta a creare rapporti e relazioni ti do un paio di esempi di quello che potresti fare io all'inizio quando ci siamo emossi all'interno del mercato musicale quindi ti prendo proprio questo settore abbiamo contattato diversi big delle etichette diversi top dj top cantanti top artisti sai cosa abbiamo scritto gli abbiamo scritto all'interno dei social e gli abbiamo detto buongiorno siamo emanuele simone guarda abbiamo iniziato ad avviare un progetto nella musica perché crediamo che la musica abbia bisogno di questo valore che è venuto a mancare ci piacerebbe fare un'intervista e conoscerti per capire qual è la tua visione all'interno del mercato del mondo musicale e non l'abbiamo scritto al passami il termine bella zio bella bro in casa che ha un like del bangladesh forzato e l'altro è la mamma perché l'ha fatto lui con l'account della mamma manco la mamma gliel'ha dato abbiamo contattato top chi sono questi top posso dirteli perché saranno all'interno della community quindi abbiamo le interviste quindi non posso ancora spoilerarlo altrimenti simone si arrabbia detto questo il punto è è una figata farsi così perché anche noi abbiamo ricevuto dei no abbiamo della gente che non ci ha minimamente cagato di striscio ma tantissimi invece che ci hanno detto ho finalmente dei ragazzi che si pongono in modo carino e vogliono fare vogliono conoscere questo mercato e quando abbiamo fatto la call noi abbiamo detto noi siamo i geni del marketing tu non capisci un cazzo e la musica funziona così anche se lo pensiamo ok il concetto è detto guarda noi crediamo che la musica abbia bisogno di questo c'è questo vuoto di mercato lo vorremmo colmare in questo modo cosa ne pensi e molti hanno detto geniale vogliamo collaborare guarda un po cosa è successo lo stesso vale per te quando ti imponi con queste persone poniti con un'intervista chiedigli come hanno fatto alla gente piace parlare di sé se tu ci fai caso a tutti piace raccontare di sé raccontare la propria storia le proprie difficoltà i propri successi falli parlare sfogati io mi ricordo quando presi una volta un cliente che è un personaggio dello spettacolo molto noto io quello che ho fatto è stato molto semplice ho detto ciao puoi per favore parlarmi di te mi racconti la sua la tua storia cosa ti ha permesso di diventare quello che sei è finita che alla fine della chiacchierata è durata un'ora e mezza ci siamo anche emozionati tra virgolette perché mi ha raccontato le sfide i successi il percorso e alla fine abbiamo deciso di collaborare insieme perché abbiamo trovato un feeling non abbiamo parlato mica di prezzi non abbiamo parlato di niente questa cosa qua ragazzi è importante impara a far parlare le persone fargli raccontare la tua stala sulla loro storia i loro successi e entra con l'ottica del io voglio prendere esempio perché ti stimo per quello che hai fatto ho ancora tanto da fare mi piacerebbe prendere ispirazione da te perché in questo modo fai sentire importanti le persone e se notano che in te c'è una persona che ha veramente voglia di fare e alla stoffa e alla cattiveria la la voglia di emergere gliela danno una mano perché è quello che succede a me tutti i giorni all'interno di di tutti i contesti chiaramente che frequento quando vedo persone che hanno voglia che sono umili e che sono lì predisposte per imparare no a far la gara a chi c'era più lungo io se posso gli apro le porte gli do tutta la mano anche più di quello che che dovrei fare perché è questo che fa la differenza nel mercato e c'è anche questo luogo comune stupido secondo me nel pensare che le persone che stanno in alto noi manager i produttori sono solo degli opportunisti ma probabilmente anche vero nel senso che guardano le loro economie guardano al loro posto eccetera 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 però credimi che se inizia a crearci un feeling un rapporto del genere avranno la capacità di trovare un posto anche all'interno del loro mondo per te penso che questa sia un'altra mossa che possa farla davvero la differenza e poi è esci cerca di creare collaborazioni cerca di fare scambio merce armati di bigliettini da visita come cazzo fa un artista non avere un bigliettino da misi da visita e non fare non fare la cagata ok perché questa è un'altra roba che mi ha fatto imbestialire mi ricordo una volta a un evento stavo facendo un evento è arrivato un ragazzo mi fa ciao questa è la mia demo la puoi ascoltare così magari visto che tu hai tanti agganci ti per la puoi far sentire che cazzo vuoi invece se veniva in un altro modo diceva guarda che sono un artista emergente ma visto che tu parli così davanti a tante persone come hai fatto a raggiungere questa cosa perché io sono un artista e mi piacerebbe fare questa cosa all'interno del mio settore io mi sarei seduto gli avrei fatto una consulenza da migliaia di euro gratis aver preso il suo cd l'avrei masterizzato e l'avrei dato a tutti i partecipanti in sala c'è proprio il modo no del to guarda guarda cioè la vita non è uno spam su whatsapp e lo spam su whatsapp non è una vita cioè iniziamo a capire metabolizzare queste cose quindi vivi un po di più il mercato esci fuori cerca di re di creare connessione relazioni e ricordati un'altra cosa per quanto tutto il video di adesso ti ha spiegato che il tuo fine creare relazioni ovviamente per il tuo business impara anche a staccarti emotivamente da questo tipo di risultato e creare relazioni fine a se stesse punto senza l'obiettivo per forza di veicolare i tuoi strumenti senza per forza di veicolare la tua musica nel senso che tu esci per quell'obiettivo ma se la relazione va a finire in cui non si parla del tuo progetto non importa hai preso un contatto hai preso un numero di telefono inizia a fare i follow up cioè traduciamo iniziamo a dare seguito alle azioni che abbiamo fatto quindi messaggiatevi commentagli le storie inizia a creare una partnership di commenti degli apprezzamenti cioè non far sì che se non recuperi il numero di telefono di quella persona è finita lì e torni a casa no e lui inizia a seguire inizia a creare interazioni e cerchi di aprire discussioni argomenti chiedi pareri su quello che tu stai facendo e inizi a raccontare in parte anche di te io penso che sta roba ragazzi che poi la gente mi fa veramente arrabbiare perché mi dice sì ma manu però va bene che dobbiamo fare marketing ma nel concreto cosa devo fare ma scardinare che non c'è differenza tra teorie pratica ma se la teoria la applichi diventa pratica quindi di base è questa oltre a essere non teoria oltre a essere teoria sono anche concetti applicati di vita reale quindi inizia applicare sta roba fallo per 6 7 mesi e poi mi dici la tua rubrica cosa conta se conta zie e cugini da spammare il whatsapp o una rete di conoscenze di artisti che ti permettono di poter emergere alzare la qualità i tuoi standard a 360 gradi se è stato utile ovviamente commenta facci sapere come al solito e noi ci vediamo negli altri video ciao ciao